La visita al Museo del Paesaggio Sonoro ci porta nella sonorità quotidiana di un piccolo paese come Riva presso Chieri. Voci della natura e strumenti inediti, nati dalla fantasia e dall'ingegno dell'uomo, accompagnano il visitatore nelle sale tematiche del museo. Infatti l'allestimento moderno ed interattivo permette di immergersi completamente nei suoni di un passato recente, rispolverando un'eredità che i nostri padri ci hanno consegnato ma di cui spesso ci dimentichiamo. E' anche questo il museo. Una riscoperta delle radici, un tuffo nella cultura e nella società di qualche anno fa di un novecento vicino e già lontano. Un viaggio musicale ma anche etnografico, leggende, canti popolari, tradizioni, usanze, giochi sonori. Una musica da poco che vale molto e che riesce a rivelarci la vita che vi stava dietro. Il Museo del Paesaggio Sonoro è un percorso unico nel suo genere che ci fa guardare al presente in una luce diversa e attraverso le corde della musica.